E' stata una giornata all'insegna di stucco, scalpelli e mattoni quella che si è tenuta a Bari, in Piazza Massari, in occasione della gara regionale di arte muraria Ediltrofi 2024. Alla competizione organizzata da Formedil Bari hanno partecipato i migliori giovani e i più esperti mastri selezionati nelle scuole Edili Pugliesi. L'obiettivo è quello di gareggiare tutti insieme per eleggere quale sarà il muratore dell'anno. Quest'ultimo però verrà decretato solo il 12 ottobre, quando Bologna andrà in scena alla finale in cui le squadre vincitrici delle selezioni regionali si esibiranno nella realizzazione dei loro manufatti. L'intento di questa iniziativa però è anche quello di dare visibilità all'intero processo produttivo, avvicinando i più giovani al mondo del comparto Edile. Questi manufatti vengono costruiti con tecniche innovative e con materiali assolutamente nuovi, innovativi del settore. Questo anche per divulgare un'altra verità di questo settore, cioè che è un settore in continuo movimento, in continua innovazione. In Puglia però non sono molti i ragazzi attualmente attratti dal mondo dell'edilizia, una tendenza da invertire quanto prima per dare nuova linfa a tutto il settore produttivo. Purtroppo nei nostri ragazzi ancora non riesce a passare il messaggio che l'edilizia è un filone di tutto rispetto perché oltre a dare soddisfazioni economiche molto maggiori rispetto ad altri settori è anche, come dicevo prima, un settore completamente rinnovato e innovativo. In questo settore si avvicinano di più i ragazzi immigrati, tant'è che con i ragazzi immigrati stiamo facendo un grosso lavoro anche con il Ministero, con il progetto Ampal, soprattutto con i minori non accompagnati.